Vi invitiamo il 26 maggio 2012 alle ore 16 e 30 al primo torneo di calcio Batti il Tempo che l'Associazione Nuovi Percorsi Olmos sta organizzando per poter completare il nostro progetto a livello comunale di isole BLSD con defibrillatore. In quella giornata noi andremo a consegnare i nostri primi 6 defibrillatori su 11 che dovremo ancora sul totale di 11 a delle società, la società sportiva della Fontenovese, ai Carabinieri, alla farmacia di Santa Lucia. Ma l'Associazione Sagra delle Rose, Sagra delle Rose. Tutto questo per poter dare modo a noi di poter adempiere a quell'impegno preso da due anni a questa parte che vorremmo portare a termine. Parteciperanno a questo torneo la rappresentativa della Nazionale dei Sossi, Attori e Cantanti, rappresentativa della Roma AS Serie A Calcio Femminile, una rappresentativa della Fontenovese e la nostra associazione, rappresentativa della nostra associazione. Verranno consegnati alla Fontenovese un defibrillatore che verrà poi adibito al campo qui a Tocupara ed è in previsione di donarlo anche al campo di Santa Lucia. Vi invito, vi ringrazio tutti e arrivederci a sabato il 26 maggio con il 16.30 al campo comunale in viaggio. Grazie a tutti!